Una struttura di eccellenza della sanità campana, verificare le possibilità di incremento della collaborazione fra strutture pubbliche e private accreditate e poi per risolvere il problema storico che abbiamo nel rapporto fra sanità campana e le private convenzionate. Io credo che risolvere in maniera civile questo rapporto ci consenta di sbloccare risorse imponenti che sono accantonate a causa del contenzioso che si è accumulato negli anni. Credo che abbiamo avviato un lavoro importante di risanamento e di riorganizzazione. L'obiettivo ovviamente è di migliorare radicalmente sul piano dei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, migliorare quindi la qualità del servizio ai cittadini e uscire dal commissariamento in maniera definitiva.